Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili dove per lavori tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina si segnalano un chilometro di coda in direzione Livorno e un chilometro di coda in direzione Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 268 e 500 e 269 e 900 circa nel comune di Barberino Tavarnelle fino al 31 marzo. Spostandoci a Firenze dal 30 gennaio al via il primo cantiere di Publiacqua in viale Lavagnini tra via Le Strozi e via Leone Decimo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!